La Giunta Comunale ha approvato la delibera che consente di erogare contributi previsti dal Fondo Anticrisi per aiutare i nuclei familiari in difficoltà economiche. Lunedì 5 ottobre verrà pubblicato il bando che consentirà di presentare domanda fino al 16 novembre prossimo. La somma totale a disposizione è di 133 mila euro. Quest'anno è un fondo più importante perché noi abbiamo 80 mila euro e sono 50 del Comune di Fano più 30 mila dati dalla Fondazione Carifano. 83 mila euro messo a disposizione da Aset per Tari e per il ciclo idrico quindi per le spese dell'acqua. I beneficiari saranno tutti coloro che risiedono nel Comune di Fano da almeno un anno e con un valore della situazione economica equivalente non superiore a 10 mila euro. Potranno essere richiesti diversi interventi. Per l'area di sostegno all'abitazione sono previsti buoni spesa di 200 euro a nucleo familiare. Per il pagamento del canone di locazione per un periodo massimo di tre mesi un importo non superiore a 500 euro. Per il pagamento delle utenze domestiche come luce e gas già scadute a partire da gennaio 2014 o comunque prossime alla scadenza è previsto un contributo fino ad un massimo di 150 euro. Sulle gevolazioni per bollette di acqua e rifiuti invece lo sgravio tariffario verrà calcolato sulla base di diverse fasce stabilite. Per le famiglie con valore ISEE non superiore a 5 mila euro è previsto uno sgravio di 600 euro. Per un ISEE compreso tra 5 mila e 1 e 7 mila euro ne sono previsti 500, mentre se la fascia va dai 7 mila e 1 ai 10 mila lo sgravio complessivo sarà di 400 euro. Ma nonostante gli indicatori parlino di una piccola ripresa in alcuni settori, ha detto l'assessore Barnesi, si trascina ancora una situazione di disagio per molte persone. L'amministrazione assicura e attenta ai beni di prima necessità, alle politiche abitative e occupazionali, tant'è che in accordo con la Caritas verranno messe a disposizione dei locali a Sant'Arcangelo per la distribuzione di vestiti usati. Il Comune inoltre sta cercando appartamenti di pronta emergenza e quindi per aiutare chi subisce uno sfratto. Per questa emergenza si sta ristrutturando un locale di proprietà dell'Erap che necessitava di interventi di manutenzione. Partirà a Fano anche un progetto di co-housing, cioè una coabitazione solidale per aiutare famiglie con minori e ragazze madri. Nelle prossime settimane poi verrà pubblicato un ulteriore bando di 30 mila euro con l'obiettivo di stabilire una graduatoria per i tirocini. Si tratta di attività lavorative retribuite. In collaborazione con delle aziende del territorio consentiranno di offrire una forma di occupazione per un periodo, sperando poi di poter stabilire anche con le aziende delle forme di patruire, delle collaborazioni che consentano anche il protrarsi del periodo di lavoro.